E' stato il Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica tramite la determina dirigenziale numero 441 a rendere noto l'impegno di spesa che il Comune sosterrà per far fronte agli interventi di piantumazione delle essenze al fine di adempiere a quanto disposto dalla legge 113.1992 relativa alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato. Come abbiamo avuto modo di evidenziare negli ultimi giorni, l'area individuata per piantare gli alberi e ottemperare alla legge modificata nell'ottobre 2013 e quella dell'argine destro del fiume Salso. Passiamo alle cifre. Preso atto dell'urgenza di effettuare i lavori di piantumazione per quanto disposto dalla legge 113.1992 e che l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe tempi istruttori non compatibili con le esigenze, si legge nella determina dirigenziale pubblicata sull'albopretorio online del Comune, propone di affidare in economia per l'importo al netto del ribasso d'asta del 36,125% di 20.266,63 euro comprensivi di onere per la sicurezza e costo della mano d'opera. Il capitolo da cui verranno prelevate le somme è quello destinato alla manutenzione ordinaria del verde pubblico.